Ho il piacere di presentare un'esperienza didattica altamente innovativa e moderna. L'AIFO, Associazione Italiana Amici di Rolfo Lerò, che è da sempre impegnata per il diritto alla salute nei paesi più in difficoltà del mondo, diffonde da adesso un kit didattico per le scuole superiori di primo grado e per il biennio del secondo grado, alla salute, esercitare il diritto alla salute in Italia e nel mondo. È un percorso anche interattivo e multimediale, composto da schede didattiche, ma anche da esperienze multimediali che i ragazzi potranno realizzare all'interno delle proprie classi o comunque con un PC. L'AIFO è notorialmente un'organizzazione che lavora per la cooperazione sanitaria, però anche da anni, nelle scuole italiane, da oltre dieci anni, è impegnata per educare alla salute globale. Perché la salute? La salute è il bene più prezioso, ma non è soltanto un bene di alcuni, ma è un diritto, un diritto fondamentale che oggi è un'emergenza sociale in Italia e all'estero. Il kit vuole soprattutto legare il globale, cioè vuole soprattutto collegare il nostro mondo col mondo più povero e esercitare il diritto alla salute, soprattutto come diritto ad essere bene, alla vita, alla dignità e ad essere felici. Alla salute è un kit didattico pensato non soltanto per la scuola e gli insegnanti, ma anche per volontari e educatori in genere e anche per i cittadini. Basta aprirlo nelle prime pagine per capire che è uno strumento, più che uno strumento è uno spazio da abitare, ricco, dinamico, multimediale, ha una comunicazione veramente adatta alle reti sociali di oggi. Vi proponiamo nelle prime pagine degli spunti metodologici che si ispirano alla figura della pedagogia popolare di Paolo Freire e vi proponiamo delle attività anche concrete da fare con il gruppo che vanno dalla galleria delle idee al blog alla pagina Facebook. Abbiamo dedicato un piccolo capitolo anche a come si organizza un'unità didattica, insomma tantissimi strumenti proprio nelle vostre mani. Vi invitiamo anche a visitare la pagina Facebook dedicata al kit didattico IFO dove può diventare uno spazio vitale di scambio e di confronto di esperienze. Ciao, come stai? Questa formula di saluto è diffusa in tutte le lingue e in tutte le culture del mondo. Saluto, salus appunto, questa parola ci riporta direttamente all'idea di salute, un'idea che è una preoccupazione che accomuna tutti gli esseri umani. È per questo che pensando al nostro kit abbiamo focalizzato la nostra idea di diritto alla salute in un albero che affondasse le sue radici appunto nei diritti umani è che attraverso la trattazione del concetto di salute arrivasse a parlare anche di tante problematiche e di tante soluzioni comuni al benessere dell'intero genere umano. Le schede del kit alla salute presentano una prima parte introduttiva per le insegnanti, ad esempio la scheda salute e alimentazione ha una prima parte con il titolo l'accesso al cibo come diritto individuale e responsabilità collettiva e inquadra la tematica dell'accesso al cibo facendo un escursus molto breve sul concetto di sicurezza alimentare fino alla sovranità alimentare e ogni scheda ha anche delle espressioni particolari che rimandano al glossario che è in fondo al kit e presentano poi una serie di attività divisi per fasce d'età quindi ci saranno delle attività proposte per bambini, per adolescenti e per i ragazzi del biennio della scuola superiore e ogni attività invita i ragazzi ad essere attivi e partecipi e fare un'esperienza della tematica. Dunque nell'affrontare una tematica così complessa come quella del diritto alla salute che sappiamo essere universale non potevamo non intraprendere un approccio interculturale nelle nostre società interconnesse sempre più interessate dai flussi migratori ci troviamo di fronte all'incontro con l'altro esattamente come si trovano i medici. Noi sappiamo che cosa succede nello studio medico fra noi e il nostro dottore e quindi ci siamo chiesti che cosa succede negli studi medici o comunque nelle relazioni fra terapeuta e paziente anche nelle altre parti del mondo. Questo però adesso accade anche negli ospedali qui esattamente qui quindi il sistema sanitario nazionale si trova ad affrontare appunto l'incontro con l'alterità ed è proprio per questo che questi codici diciamo della medicina occidentale subiscono delle trasformazioni e per questo in alcuni ambulatori polispocialistici si sta affrontando un approccio di medicina transculturale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i codici della medicina occidentale si pongono delle domande e inoltre vuol dire poter lavorare con un'equip transculturale interdisciplinare in cui collaborino sia mediatori che antropologi, medici, assistenti sociali e psicologi. Alla salute! Grazie a tutti! Grazie a tutti!